Il Tribunale per i diritti del malato denuncia in ritardo Il Tribunale per i diritti del malato denuncia in ritardo Ben trovati con Reporter, tra gli altri argomenti del nostro giornale parleremo di Cronaca ha truffato il nonno ultra novantenne prelevandogli i risparmi di tutta una vita indagini in corso ad Acireale da parte della Polizia riflettori poi sulla frazione di Capomulini segnalate condizioni di degrado lungo la via Maceratoi e poi in primo piano la nuova denuncia del Movimento 5 Stelle sulle spese pazze al comune di Acireale Questo è altro all'interno del nostro giornale che andiamo ad aprire con la denuncia appello del Tribunale per i diritti del malato cittadinanza attiva riflettori ancora una volta sul pronto soccorso dell'ospedale di Acireale Al centro del discorso c'è il pronto soccorso dell'ospedale di Acireale che in qualche modo è sempre al centro del discorso perché è un po' il biglietto da visita di tutta la struttura ospedaliera di via Caronia Porte e finestre da riqualificare climatizzazione approssimativa ma indispensabile col caldo che fa l'assenza della figura del medico nelle stanze del lobby l'osservazione breve e intensiva quest'ultima sempre promessa l'ultima volta anche in occasione della giornata del pronto soccorso acese celebratasi lo scorso 23 maggio alla presenza di deputati nazionali e regionali che garantivano un'interpretazione non restrittiva della rifunzionalizzazione del pronto soccorso acese invece la figura del medico nell'osservazione breve e intensiva non è stata mai ripristinata dopo il taglio del servizio attuato nella scorsa primavera quel servizio che era chiamato il medico in hobby che era una figura fondamentale perché riusciva col suo servizio a seguire i pazienti nel momento in cui passavano dall'altro lato dopo aver passato la prima visita nella stanza di emergenza questo servizio viene a cadere perché Giarre ha necessità di avere un servizio territoriale H24 di emergenza tutti questi dettagli potrebbero aiutare ad alleggerire il lavoro di un pronto soccorso che dopo la chiusura di Giarre ha visto crescere la propria professionalità ma ha visto aumentare molto di più il numero di pazienti che hanno bisogno di assistenza col risultato che i disagi restano una soluzione potrebbe essere nei 3 milioni e mezzo di euro che l'ASP ha scovato nel proprio bilancio e che potrebbero servire per rimpolpare la squadra di medici e infermieri in realtà un progetto c'è ma impegnerebbe solo 500 mila euro l'anno per 4 medici e 6 infermieri a tempo determinato eppure ancora nulla si muove questi soldi non sono prese da capitoli diversi sono soldi che esistono nell'emore di quelli che sono i risparmi fatti su questo capitolo di spesa cioè sulla assunzione di personale a tempo determinato quindi se si spendono 500 mila euro per avere questo personale e quindi per fare decollare effettivamente il pronto soccorso della Cireale per noi sembra una cosa fondamentale Il timore che viene avanzato da Tribunale per i diritti del malato e cittadinanza attiva è che si stia perdendo tempo per delegittimare il pronto soccorso a Cese e aprire quindi la strada alla definitiva chiusura del servizio e a seguire alla definitiva chiusura di tutto l'ospedale Adesso la cronaca Polizia in azione ad Acireale per una presunta truffa la Polizia sta conducendo un'indagine su un caso appunto di probabile truffa perpetrata ad anni di un anziano ultra novantenne per mano di un familiare una nipote si tratta di un signore di 93 anni vedovo senza figli che avrebbe promesso ad una delle sue nipoti di donarle una piccola somma di denaro nell'ordine delle 2-3 mila euro per contribuire all'acquisto della casa i due si sono così recati presso l'ufficio postale per prelevare il denaro e qui è partita la truffa la nipote infatti ha indotto il nonno ad apporre delle firme che in effetti non servivano a prelevare quella somma di 2-3 mila euro ma a prelevare qualcosa come 155 mila euro il risparmio di tutta una vita dell'anziano ultra novantenne qualche giorno dopo l'anziano si è però reso conto del tutto però non è riuscito a farsi restituire la somma da qui l'intervento della polizia di Acideale dopo la denuncia presentata nei locali del commissariato gli agenti hanno subito provveduto al sequestro preventivo della somma in modo che la stessa potesse essere spesa avviando contestualmente un procedimento nei confronti dei familiari coinvolti la tragica scomparsa di Gabriele Trovato il bimbo di 4 anni di Accecatena morto la scorsa domenica nelle acque di Marina di Cottone la procura della Repubblica di Catania ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo madre e padre del piccolo Gabriele un atto di routine al fine di consentire la nomina di consulenti di parte a tutela delle garanzie difensive le indagini infatti vanno avanti confcommercio Giarre dopo alcuni giorni di silenzio con una nota interviene sulla diffida ricevuta sabato dal sindaco Buonaccorsi per non aver rispettato alcune scadenze in merito all'evento conclusosi martedì in Piazza Duomo per confcommercio si legge in una lettera aperta dell'associazione rappresenta un fatto senza precedenti maturato proprio mentre con il primo cittadino si concordavano dei correttivi da attuare nello svolgimento dell'estate dell'evento estate Giarre l'eccessivo zero da parte del sindaco aggiungono i commercianti è stato preceduto anche ad una serie di impedimenti che puntualmente si presentano quando la nostra associazione si muove per realizzare attrazioni per il territorio con l'intento esclusivo di produrre economia e interesse l'associazione precisa poi di essersi mossa con il desiderio di vivacizzare l'estate Giarrese senza probabilmente l'adeguata esperienza nel settore ma affidandosi a soggetti accreditati e senza ricorrere a finanziamenti da parte di enti pubblici e privati se abbiamo commesso degli errori dicono oggi i vertici di confcommercio ne siamo dispiaciuti i nostri propositi hanno cambiato connotazione ma ciò è stato letto esclusivamente in malafede come se ci fosse stato interesse da parte nostra non meritavamo le offese e le umiliazioni e un accanimento come se fossimo un soggetto politico di parte ma non finisce qui perché i commercianti si dicono sbalorditi per la semplicità con la quale il primo cittadino Giarrese ha esercitato d'imperio l'atto della diffisa nei confronti della confcommercio mobilitando persino carabinieri e polizia locale come se non potesse bastare un formale di niego la reazione del sindaco e di tutti coloro che lo hanno appoggiato dice confcommercio sono poco giustificabili oggi ne siamo usciti con il viso livido ma con la coscienza pulita orgogliosi dei nostri propositi e desideri supportati e spronati da numerosi colleghi e cittadini che continuano a mostrare stima e considerazione per l'impegno profuso e il grande sacrificio che questa associazione dimostra con i fatti continua insomma questo braccio di ferro tra confcommercio da una parte sindaco buonaccorsi dall'altro restiamo a giarre intanto perché tra le buone nuove c'è che lunedì saranno consegnati gli alloggi popolari della ex via Carducci saranno consegnate lunedì prossimo le case popolari di via teatro già via Carducci con soddisfazione e sollievo lo fanno sapere gli stessi inquilini che da anni combattono per il diritto ad una casa dignitosa si avvia dunque a conclusione una questione che negli anni ha visto il susseguirsi di continue novità e colpi di scena le case saranno consegnate sia ai legittimi assegnatari che ai senza titolo ed è avvenuto proprio ieri l'ultimo atto formale richiesto dal comune di Giarre prima di consegnare le case vale a dire la rinuncia da parte degli avvocati degli inquilini a tutte le cause intentate contro il comune finirà così questa interminabile odissea che va avanti da circa tre anni ma adesso resta da sciogliere il nodo del teatro incompiuto di via teatro perché l'impresa che esegue i lavori non avendo ricevuto i finanziamenti dalla regione ha infatti sospeso gli interventi ma questa è un'altra storia una maledizione che perseguita da 60 anni il teatro incompiuto dell'omonima via la più antica delle incompiute di Giarre sul sito internet intanto del comune di Giarre è stata pubblicata tutta la modulistica necessaria per chiedere il trasporto gratuito alunni il rimborso del trasporto il contributo sostitutivo all'abbonamento modulistica che può essere ritirata anche presso l'ufficio politiche scolastiche servizio istruzione e cultura al primo piano di palazzo delle culture in piazza Maccherione a riposto invece domani sera il sindaco Vincenzo Caragliano e il comandante dell'ufficio circondariale marittimo tenente di Vascello Luca Provenzano celebreranno l'intitolazione della piazza adiacente la sede del comando al corpo delle capitenerie di Porto Guardia Costiera in occasione del centocinquantesimo anniversario della sua istituzione si procederà a ridenominare e intitolare la piazza adesso ci fermiamo pausa pubblicitaria torniamo subito Acireale Estate 2015 gli eventi in città spettacoli cinema concerti cabaret teatro opera dei pupi musica classica e il carnevale d'estate collegati su facebook Acireale Eventi e potrai seguire il calendario giornaliero dal 3 al 16 agosto carnevale per le strade d'estate i carri in esposizione permanente la sera si esibiranno contestualmente in vari angoli del centro storico music in the street gruppi musicali jazz swing blues brasiliana cubana dal 4 al 13 per chi ama i classici Villa Pennisi in musica giorno 8 Teresa Mannino in Sono nata il 23 prevendita City Box Ottica Grasso Le novità sulle collezioni vista sole dai brand più di tendenza centro ottico Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi Ottica Grasso Adaci Reale nuovo ampio concept store in corso Italia 122 Adaci Catena in via matrice 34 Ottica Grasso 34 anni Tottica Blu Bar Blu Gel Blu Bar New Felici di stare con te Al mare o in collina ti aspettiamo per deliziarti con le nostre produzioni granite e gelati di tutti i gusti dolci prelibatissimi tavola calda ottima e se ti piace la siciliana puoi gustarla classica o speciale tutte le sere al Blu Bar New di Fleri Blu Bar a Stazzo a Cireale Mare per chi ama il gelato Blu Gel a Zafferana Etnea Oragel un tesoro di freschezza direttamente dal mare sulla vostra tavola il pescato di Oragel non attraversa una filiera esterna raggiunge Oragel per essere lavorato e proposto in pescheria Oragel la pescheria al dettaglio con i prezzi all'ingrosso dove oltre al pesce fresco offre dei surgelati e ottimi preparati lavoriamo direttamente lo stocco e il baccalà preparandolo con cura attraverso antichi metodi per garantire la massima qualità Oragel ad Acireale in via De Amicis angolo via Alessandro Volta grande finale del concorso nazionale di bellezza la Venere dell'Etna 2015 domenica 30 agosto piazza Duomo a Cireale nel corso della serata sfileranno le ragazze selezionate e sarà proclamata la Venere dell'Etna 2015 ospite della serata Eva Enger presentano Giampaolo Salmeri e Federica Battaglia finale nazionale concorso di bellezza la Venere dell'Etna 2015 domenica 30 agosto piazza Duomo a Cireale seconda parte del nostro giornale riflettori su via Maceratoi a Capomulini un'arteria abbandonata in quanto a pulizia il dito puntato da parte del consigliere comunale Di Mauro o anche sulla situazione in città via Maceratoi a Capomulini un'arteria dimenticata nonostante nella zona sorgono decine di villette e complessi immobiliari a farsi carico delle istanze dei residenti è perciò il consigliere comunale Gaetano Di Mauro che lamenta perciò la presenza per prima cosa di una villa pubblica completamente abbandonata e coperta da sterpaie dove si fa persino fatica ad individuare la sua estensione ed elevato è così il pericolo di venire fuori un incendio una situazione che ormai va avanti da tempo e non certo scaturita in questo periodo tanto che i residenti responsabili dei vari condomini hanno più volte evidenziato nei mesi scorsi la problematica ad oggi ha avuto modo di sostenere il consigliere Di Mauro sono trascorsi due mesi e nonostante i solleciti fatti formulati pure durante i lavori consigliari dove l'assessore Fichera risulta secondo Di Mauro spesso assente non è cambiato nulla il consigliere Di Mauro allarga quindi il contesto evidenziando come la precarietà in fatto di pulizia non riguardi solo Capumulini ma anche complessivamente Acireale con la città spesso sporca con cassonetti che andrebbero svuotati dal notevole quantitativo di rifiuto accumulato e che soprattutto nella stagione estiva andrebbero svuotati e puliti con maggiore frequenza il consigliere Di Mauro aspica perciò che l'assessore Fichera sia attivi per dare una risposta concreta agli accesi che pagano regolarmente le tasse per ottenere un servizio idoneo efficiente e soddisfacente come non lo è certamente adesso l'assessore ai lavori pubblici Nando Ardita invece comunica che sono in corso i lavori di ripristino dell'area a verde di Piazza Europa nei mesi passati con la SOGIP di Cerdita abbiamo provveduto alla riparazione dell'impianto di irrigazione della condotta dell'acqua potabile per la fontanella installata nel centro della piazza conclusi i lavori abbiamo esortato commercianti e imprenditori a prendersi cura del verde si sta adesso procedendo alla piantumazione del prato dei fiori alla posa della ghiaia siamo soddisfatti aggiungi Ardita e convinti che con l'attenzione e il rispetto di tutti Piazza Europa dopo anni di incuria sarà finalmente un gioiellino simbolo di cura e decoro urbano e adesso in primo piano la denuncia del Movimento 5 Stelle e le spese pazze al comune di Acireale non si arrestano l'assistenza agli organi istituzionali affermano gli esponenti del Movimento 5 Stelle costa più dei vigili urbani tra i tanti proclami che questa amministrazione ha solennemente annunciato vi è la delibera di giunta che prevede azione di contenimento della spesa a servizi invariati la cosiddetta spending review una delibera che annunciava grandi risparmi prevedendo il blocco di qualsiasi straordinario per i dipendenti comunali ma evidentemente affermano del Movimento 5 Stelle fatta la legge trovato l'inganno in effetti il blocco degli straordinari c'è stato ma non in tutti i settori il Movimento 5 Stelle infatti analizzando le determini ha scoperto che il comune ha speso in 12 mesi qualcosa come 130 mila euro mediamente quasi 11 mila euro al mese la scelta del personale che deve svolgere il lavoro straordinario di assistenza agli organi istituzionali è puramente discrezionale soldi che sono stati spesi appunto per l'assistenza agli organi istituzionali questo è quanto denuncia il Movimento 5 Stelle a beneficiare di questa scelta sette dipendenti che hanno cifre nette come incremento in bilancio nel bilancio personale di circa 500-600 euro al mese in più non vogliamo limitare assolutamente il corretto espletamento delle funzioni istituzionali concludono dal Movimento 5 Stelle né tantomeno accusare di alcunché i dipendenti coinvolti ma crediamo che tale spesa sia l'ennesimo spreco di risorse pubbliche che potrebbero essere sicuramente destinate a fini ben più nobili e utili per la città restiamo ad Acireale il foyer del teatro Bellini sarà dedicato a Francesco Pennisi alle 19.30 di stasera nel foyer dell'antico teatro di Via Romeo il sindaco scoprirà la targa in memoria di Francesco Pennisi illustre compositore scrittore e pittore accese fondatore dell'associazione Nuova Consonanza scomparso nel 2000 e a proposito di iniziative estive è partito ieri il teatro dell'opera dei pupi altra grande attrattiva di Acireale Estate 2015 Nell'ambito del ricco e variegato programma Acireale Estate composto da tanti eventi come musica classica teatro spettacoli concerti e cinema da ieri il Bianchi all'opera dei pupi che fino al 30 agosto andrà in scena tutti i giovedì e le domeniche alle 20 nel teatro di Via Alessi grande successo per la compagnia i paladini diretto da Nello Caramma e Fratelli Scalia che in occasione dell'apertura del carnevale estivo hanno messo in scena le storie dei paladini di Francia e di Erminio della Stella un classico siciliano quella dell'opera dei pupi che si rinnova sempre grazie alla tradizione l'amministrazione ci ha dato ancora una volta fiducia per delle rappresentazioni del teatro dei pupi siciliani di storie epico-cavalleresche e precisamente sono degli spettacoli già quattro sono stati eseguiti alla Villa Belvedere al teatro noi abbiamo fatto di Via Alessi il vecchio teatro di Emanuele Macri già abbiamo fatto due spettacoli e seguiranno altri otto spettacoli che saranno fatti tutti i giovedì e le domeniche di agosto alle ore 20 rappresenteremo delle storie come dicevo epico-cavalleresche riguardanti e la storia dei paladini di Francia di giusto lo dico e anche altre storie tipo la storia di Arminio e dell'Astellatoro di Salvatore Patanè la caratteristica nostra e poi è un po' la caratteristica del teatro Macri del defunto Macri è che noi non è che facciamo spettacoli turistici per turisti che hanno in principio hanno una fine ma poi sono tre quattro spettacoli e basta più noi facciamo degli spettacoli che come una storia appuntate quindi che c'è dei collegamenti per cui gli spettacoli sono uno sempre diverso dall'altro adesso è tempo di fermarci e pausa pubblicitaria tanto altro tra poco undicesima edizione del premio l'artigianato nel mondo Cavaliere Isidoro Platania riconoscimento alla carriera di artigiani e artisti serata di gala martedì 11 agosto nella piazza antistante la villa comunale di Acicatena saranno consegnati tre premi alla memoria del grande artigiano Isidoro Platania oltre ad un riconoscimento per l'impegno umano e sociale ed uno per il giornalismo ospite della serata Giuseppe Castiglia premio l'artigianato nel mondo 2015 martedì 11 agosto ore 20 e 30 nella piazza antistante la villa comunale di Acicatena al caffè Garibaldi mille buonissime produzioni artigianali per chi ama gustarsi un momento dolce un gelato una squisitezza dalla tavola calda una granita più più se avete tempo fermatevi in piazza Garibaldi 33-34 ad Acireale c'è il nuovo caffè Garibaldi se non avete tempo vi aspettiamo a pranzo tutti i giorni nel ristorante al piano superiore o per una pericena ricchissimo servito al tavolo ampio spazio esterno per gustare ciò che vuoi il giovedì sabato e domenica eventi musicali live caffè Garibaldi elegantissimo spazio riservato alle mamme e ai loro piccolini servizio catering l'IRMA con l'adesione al principale core lab siciliano centralizzato ha ampliato la gamma degli esami specialistici il riporto dei risultati precedenti sul referto rende agevole il monitoraggio clinico ed evita inutili ripetizioni di analisi il riconoscimento dei pazienti all'atto del prelievo rende impossibile lo scambio dei campioni in fase preanalitica evitando uno dei più insidiosi errori di laboratorio la consulenza di patologia clinica sugli esami specialistici di genetica e biologia molecolare agevola l'interpretazione del referto IRMA nuovi esami automatizzati per le intolleranze alimentari l'IRMA fa parte delle otto strutture contrattualizzate a livello provinciale che effettuano la verifica esterna di qualità regionale direttamente controllata dall'assessorato regionale per la salute fai più forte il team Granata scendi in campo anche tu abbonati campagna abbonamenti a Cireale Calcio stagione 2015 2015 2016 con soli 60 euro per 14 partite interne di Granata il tuo posto è in prima fila è possibile sottoscrivere l'abbonamento tutti i giorni dalle 17 alle 19 presso lo stadio Tuparello la società si riserva una giornata Granata nella quale non saranno validi abbonamenti ad essere omaggio forza Cireale apriamo la terza parte del nostro giornale con una notizia di cronaca nera a Calatabiano chiusa una sala giochi denunciato il titolare i carabinieri della stazione di Calatabiano hanno denunciato un 75enne del luogo per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità violazione di sigilli e mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti l'ispezione è stata effettuata nel club Juventus di via Artale a Lagona ha permesso di appurare come il titolare non aveva ottemperato agli obblighi prescritti e adesso invece vi parliamo del premio Isidoro Platania undicesima edizione del premio che torna puntualmente quest'anno a Daci Catena evento che è stato presentato questa mattina Nei giorni in cui lo Svimez relega il PIL siciliano abbondantemente al di sotto del prodotto interno lordo della Grecia a Cicatena insiste e riaccende i riflettori sul premio Cavalieri Isidoro Platania e quindi sul mondo dell'artigianato una volta spina dorsale dell'economia isolana oggi con l'acqua alla gola il premio che taglia l'udicesima edizione e che si terrà da Cicatena martedì 11 agosto cambia da quest'anno l'edizione in artigianato nel mondo ma la sostanza rimane immutata riconoscimento agli artigiani che continuano a tenere alto il buon nome dell'inventiva artigianale siciliana come i premiati di quest'anno Salvatore Leocata little argentino adesso a Catania che per primo in Italia ha aperto un centro parrucchiere unisex oppure la pittrice cuntastori di AC Sant'Antonio Maria Pia Cristaldi che di recente ha illustrato ad Expo la storia del carretto siciliano o ancora il bar pasticceria Cipriani che da AC Reale ha allungato la propria sfera di interesse sino in Inghilterra aprendo a Cambridge due punti vendita che a breve diverranno tre un premio nato dieci anni fa per dare giusto riconoscimento nei confronti dell'artigianato siciliano infatti il nostro scopo è quello di premiare ogni anno tre bravi artigiani conosciuti a livello nazionale e a livello internazionale spero realmente che con questo premio che è dedicato a Isidoro Platania e soprattutto anche all'artigianato che inizia a crescere vero è il PIL che ci ha dato inferiore alla Grecia perché il governo non sta puntando sull'artigianato ma non si capisce su quale imprese su quale attività sta puntando il comune malgrado le difficoltà economiche ha inteso supportare l'organizzatore nello Couturi nella realizzazione della manifestazione che assegnerà altri due riconoscimenti per l'impegno sociale al dottor Fabrizio Pulvirenti medico di emergency che contrasse l'ebola mesi fa in missione e per il giornalismo alla redattrice della Sicilia Graziella Pulvirenti da 7-8 anni 10 anni forse più che questa categoria è in profonda crisi noi a Dice Catena da 11 anni teniamo questa fiaccola accesa nel ricordo del nome di uno che si è speso per il mondo dell'artigianato per la categoria portando la sua voce anche oltre stretta la serata sarà condotta dal direttore artistico Giulio Vasta coadiuvato da Maria Antonietta Strano tra un prima e l'altro le note del trio classic music e le irruzioni cabarettistiche di Giuseppe Castiglia abbiamo voluto dare una identità immediata con questo premio l'artigianato nel mondo per spiegare che si parla principalmente di artigianato anche se poi insieme ai tre premi che saranno dedicati a tre grandi artigiani come ogni anno ci sono anche il riconoscimento ad un giornalista e il riconoscimento per l'impegno sociale questa sera a Stazzo a partire dalle 21 tredicesima edizione del premio del Mediterraneo vela d'argento verranno consegnati in totale cinque premi più un riconoscimento alla carriera che verrà attribuito al maestro Puparo Turi Pulvirenti nel corso della serata verrà eletta anche Miss Vela d'Argento 2015 per quanto riguarda i premi invece la vela d'argento verrà assegnata a Gabriele Presti vicequestore aggiunto del commissariato di Niscemi all'attore Bruno Torrisi ben conosciuto come il questore Licata nella squadra antimafia Lucia Colletta in Frisone madre coraggio del fisico Fulvio Frisone al Cantastorie Luigi Di Pino e al nostro gruppo editoriale Etna Espresso che proprio quest'anno festeggia dei 40 anni di attività patron della manifestazione lo ricordiamo è Nunzio Torrisi conduce la serata la giornalista Teresa Grasso restiamo a parlare di premi perché questa mattina è stato presentato anche il premio ACI e Galatea 2015 il premio di ACI reale ai siciliani promosso dal Cinefotoclub Galatea e dalla Noè Communication del dottor Salvo Noè ce ne parla il patron del premio Turi Consoli 50 anni non si fanno tutti gli anni in effetti e quindi credo che sia una cosa per me gratificante ma soprattutto per la città so che questo premio a parte il mio grande desiderio di poterlo continuare a produrre è anche quello di dare questa grande soddisfazione ai cittadini del Cireale che veramente sentono questo premio e in questa occasione sarò molto breve e oltretutto vorrei ringraziare tutti quelli che sono passati nell'albo d'oro che è corposissimo e nello stesso tempo ringraziare tutti quelli che ci hanno dato una mano d'aiuto da tutte le amministrazioni comunali fino a finire questa ultima che ci hanno supportato e che ci hanno dato quello che potevano in quel momento poter dare i premiati di quest'anno sono ve li posso anche elencare Valeria Tonna che è una grande concertista oltretutto figlia d'arte poi c'è il comune di Montalbano e Lecona che quest'anno è stato insegnito del premio volgo più bello d'Italia poi il dottore Fabrizio Polvirendi che sicuramente ricorderete medico per il fatto dell'ebola c'è la ditta Dolphin come industria di riposto poi c'è Monsignor Giuseppe Giovanni Lanzafame che è un marianologo si può dire così molto semato anche in Vaticano poi c'è il concerto musicale della banda di Aceriale Città di Aceriale diretto da Salvo Miraglia che quest'anno cambia i 50 anni e poi abbiamo nel contesto del premio abbiamo inserito anche il premio Una vita per le immagini che consegniamo quest'anno a Carmelo Strano che è un nostro concittadino poi ci sono alcuni elementi di contorno che faranno parte della scaletta del nostro premio come Luigi Di Pino Loredana Marino Maria Grazia Falsone il violinista Gianni Di Mauro Gli Angeli Di Gialle quel gruppo il pianista Antonino Cannavo maestro Antonino Cannavo e chiudiamo con il presentatore che è Salvo La Rosa Un ricco programma dunque di un elenco di premi il tutto lunedì prossimo 10 agosto in Piazza Duomo e adesso parliamo di calcio la Cireale conosce ufficiosamente il nuovo girone B dell'eccellenza siciliana dove ritroverà l'Atletico Catania immagini sgranate lontane anni luce ben 20 e chi di un passato lontano e sbiadito e chi adesso è pronto a rifarsi vivo a Cireale e Atletico Catania infatti torneranno ad affrontarsi nel prossimo torneo di eccellenza a distanza di 16 anni dall'ultimo incontro stagione 98-99 nell'allora Serie C1 la squadra catanese del presidente Franco Proto infatti rientra nel team di 6 squadre ripescate ieri in eccellenza dal consiglio federale di Lega oltre a Folgore Selinunte e Camarat così che verranno inserite nel girone A rientrano nel massimo torneo regionale il Troina il Forza Calcio Messina il Palazzolo e appunto l'Atletico Catania per un girone B da nobili decadute del calcio siciliano decisive le rinunce di Paternoy Tiger Brolo che unite a quelle di Ribera e San Giovanni Gemini hanno spalancato le porte anche al team Rosso Azzurro e ipotizzando adesso il più che probabile girone B d'eccellenza ecco il quadro 5 le Catanesi ai nastri di partenza 6 le squadre messinesi 3 le siracusane 1 ennese e 1 ragusana 16 squadre in tutto partenza fissata per il 13 settembre prossimo calendari in uscita nelle prossime settimane 14 invece le squadre ai nastri di partenza nel probabile girone C di promozione preso atto della mancata iscrizione del vittorio infatti la Federcalcio siciliana ha costituito un raggruppamento della Sicilia orientale centro-sud che prevede solamente 3 siracusane e ben 11 catanesi tra cui il Real Aci del patron Nando Scuderi il Tre Castagni il San Gregorio ed ancora il Biancavilla di Pescato il Real Paternò del generale Busetta l'Aci Sant'Antonio e l'Atletico Pedara tornando alla Ciriale intanto le attenzioni sono puntate anche al mercato il tanto atteso fantasista Salvo Coccimano infatti ieri si è allenato con Ingranata al Tuparello e oggi nell'amichevole in programma Torre del Grifo contro l'Acaragas potrebbe anche scendere in campo per una decina di minuti la firma però ancora manca e potrebbe arrivare nella giornata di domani ma il direttore Pasquale Leonardo assicura di aver raggiunto già un accordo sulla parola a proposito di amichevoli infine annullato il triangolare di domenica prossima Mascaluccia con la formazione locale e il noto restiamo in casa a Cireale andiamo a conoscere meglio il neoattaccante nigeriano Ike Ike come è stato ritornare ad Cireale già ci sei stato qui per un tempo però troppo breve forse è stato bello perché nel mio ritorno vedo il tifo che mancava quando c'era sono emozionato come la presentazione ieri con i tifosi noi tutti non vediamo che inizia il campionato perché con questo tifo che c'è l'unica cosa è scendere in campo e dare il massimo Sei ormai un esperto di questi campionati questa Cireale può davvero competere per i primi posti Sì secondo me come stiamo lavorando con alcuni giocatori che sono arrivati e quelli che c'erano con forza con aiuto anche con i tifosi secondo me possiamo lottare per i primi posti Cosa ti senti di dire ai tifosi? Che sono qui quest'anno non come l'altra volta sono qui per dare più quelle che ho dato qui quelle che mi hanno visto l'altra volta e sono qua anche per studare per far vedere che questa maglia sono pronto a nonare questa maglia Andiamo a chiudere lo facciamo con le previsioni meteo per la giornata di domani Fenomeni temporaleschi alternati a schiarite venti deboli temperature stabili minima di 26 massima di 30 gradi ma aumenta il tasso di umidità mari poco mosse è tutto anche per oggi appuntamento con reporter per domani sabato ultima della serie prima della pausa ferragostana dopodiché reporter appunto va in pausa e riparte lunedì 31 agosto buona estate a tutti e buon proseguimento grazie a tutti a tutti Grazie.